È difficile perché la mattina quando entriamo in azienda o si chiamano i carabinieri o veniamo noi e vedere che in casa hanno rubato qualcosa non è semplice. Maxi furto nella notte accesa dove ladri sono riusciti a portare via una camion e due escavatori, mezzi fortunatamente ritrovati dopo alcune ore a Roma. Il furto si è consumato attorno all'una. I malviventi, almeno tre quelli immortalati dalle telecamere di sicurezza, si sono introdotti all'interno di una ditta di trasporti dalla quale hanno portato via un camion. L'hanno rubato il camion, l'hanno distrutto praticamente. Poi si sono spostati nell'azienda confinante nelle loro mire due escavatori dal valore di oltre 100.000 euro. Questo è quello che resta di parte della recinzione dell'azienda. I ladri infatti, nel tentativo di sfuggire all'occhio delle telecamere di videosorveglianza, hanno tentato la fuga da qui. Avevano rubato le rampe d'alluminio, hanno sorpassato il fosso e sono andati tutti lungo il campo, fuori dalle telecamere. Dopo aver caricato gli escavatori sul camion, la fuga. Demolendo tutto il camion, perché il camion era un camion centinato, ci è rimasto poco. Per poter sbassare e caricare le macchine, hanno demolito tutto. Sul posto, questa mattina, i carabinieri che hanno dato avvio alle ricerche, i mezzi, grazie ad un sistema satellitare, sono stati ritrovati dopo poche ore in un deposito a Torbella Monaca, a Roma, pronti per essere smontati e rivenduti. Il commasso ha delle cose particolari, satellitari e contract che si possono rilevare. Abbiamo rilevato che erano sotto Roma, si sono bloccati e automaticamente i carabinieri hanno bloccato tutto. I mezzi sono stati sequestrati, saranno riconsegnati ai legittimi proprietari. Prosegue invece la caccia ai responsabili del colpo grosso.